Dovresti uscita la televisione? Spero. Oh, ti sento più. Sì, no, ci sono, ci sono. Stavo guardando su Twitch, arriva il video, ma devo ancora arrivare. Forse devi entrare in Twitch, perché mi dà zero spettatori. A parte pure questa cosa è affidabile. Aspetta che riprovo. Davide ritorno a Stoneville a Sevilla. Esco da Twitch e rientro, magari più veloce. Trasmissioni live. Li chiamavano finita. C'è Munir a palla. No. Ok, ora vedo. The Young l'hai fatto dispiace troppo, infatti è tutto giù. Non te lamenterà. Allora, l'ho pensata prima la formazione da mettere. Facciamo l'albero di Natale. Forse trovo il modulo per il Sevilla. Quindi quattro dietro. Navas a destra. Con D e Sergi Gomez in mezzo. Quattro, tre, due, uno. Ecco. Ed è scudero a sinistra. Giusto per capire se la vedo con poco buffer. Tu adesso su che menu sei? Eh, sto già nella formazione. Ho messo un muo, quattro, due, l'albero di Natale. Vedo adesso che hai messo quello, tre, due, uno, dai. Più o meno avrò cinque, sei secondi. Bono. Diego... Allora a destra. Metti Navas. Fino a destra. Ok. Ah, c'è un po' di ritardo, vabbè. Penso è quella decina di secondi che te lo porto. È rimasta. No. A sinistra è Scudero. I centrali vanno bene quelli? I centrali, Sergi Gomez e Cundè, sì. Ok. Mediano, basso, Fernando. Cundè, sì, che va a destra da solo. Centrocampista di destra, Joan Jordan. Caracchio di sinistra, volevo mettere Oliver Torres, vai giù. A sinistra può giocare? Eh, sennò c'ho Banega. Banega, che ha giocato la prima partita poi. Vai da 83, no? Cundè. Oppure chi è che può giocare sempre con pista centrale? Ocampos? Guarda, io... Seleziono qua. Mi escono tutti quelli che possono giocare. Oliver Torres. Però sta male. Gudelli. 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 Gudelli è sempre giocato male. Banega è quello che... Lascierei Ocampos, se non può giocare Ocampos. Non credo. Siamo Banega, lei. Lascierei 83, dai. Vázquez Suso, punta... Proviamo com'è De Jong. Vázquez Suso, De Jong. E De Jong sta male, l'ho detto, l'hai dispiaciuto. Guadagni. Voleggio Munir, lo devi accontentare. Avancina, though, eh? Il solito portiere di Valki e il difenso del gato Statico. Dove essere Bono, credo, poi mi porto Reguillon, Divo Carlos, Roni Lopez, Ocampos, Gudeli e Nesiri Ok, poi passiamo ai dati che penso sono rimaste memorizzate nelle ultime partite Se i cambi durante le partite rimangono memorizzate quando? Bella domanda Mettiamo 1 a 0 al Villars, mettiamo possesso perchè abbiamo lì un centrocampo, un folto, possesso e gioco al centro Passaggi corti o passaggi lunghi? Corti Sì, corti La caccia di Scudero sta male, ho visto adesso che c'è un po' di differita, dopo mettiamo magari Reguillon a sinistra Così va bene, presso palla, corto, centro, modulo fisso Reggio d'azione 5 Sì, lascia 5 Difesa cos'ho? Dato che c'è un po' di ritardo, dovete avere Decisa, stile difensivo deciso Area di contenimento centrocampo, pressing difensivo Sì, va bene così Linea difensiva 5, compattezza 5 Poi ci sono quelle parlocche, vabbè, se non le usi eppure non le uso E' pure inutile impostarla, la disattiva in basso Vediamo, vediamo per Reguillon Sì Se sta bene, meglio discutere Si E' stabile Quindi Ma i tiratori qua Caminando Ai tiratori Suso e Vasquez e punizioni Calcio d'angoli Calcio d'angoli Suso direi Si E' anche più forte di Suso Banega Ti rende? Dalla lunga si, la corta no Corta è meglio Suso I corner è meglio Suso Dobbiamo poi mettere gli uomini in aria Ok Ci mettiamo I centrali e Munir I centrali e Munir I centrali e Munir Si Vabbè Direi poi le mani Un attacco Suso pure Il Mudo Vasquez Lo scendiamo lì Vuoi l'attacco pure su Suso? No Ah no Allora hai messo punta l'altro giorno? Ma mi sa che ho fatto una confusione con André Gomez Eh penso che si Penso che si Penso che si Qui papà Si si che si è qui Comunque Diciamo che c'è un po' dei problemi Proseguivo il microfono E quindi Magari Scriviamo quello che Bisogna fare Perché qua La situazione sta precipitando Va bene dai proviamo questo test Va bene Va bene Va 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 Can Fa Man È Finalmente Ha fatto confusione con Mi sta facendo Faville a Line Voglio Magari Faville, sta a segnare? Non ricordo quattro, ma l'ho letto l'altro giorno Vi adoro Edric per lui C'è pure Grealish in genere, la villa Eh? C'è pure Grealish Eh beh si Siamo ancora a San Diego E poi mi farei vedere Super Mario Io praticamente ho tempo trascorso della diretta di 9 minuti e 22, 23, 24, 25 Quindi sono 9,13 Ok, quindi c'è una bella differenza, c'è quasi 20 secondi eh 15 mi sembra, vabbè, ritengo che... Allora, 9,40 adesso 27, quindi sono 13 Pensavo di meno, cos'è? Siamo 17 Questa sono doppio Per provare... se metti pausa provo a mettere... cambio il wifi e ci metto il hotspot del cellulare Allora, tu pensi che dipende dalla connessione tua? Si, provo Ok Anzi, però la connessione in realtà è la stessa mia tra audio e... video Non so, è proprio l'audio che è più veloce, l'audio sulla Playstation Ma no Intanto, guarda scrivere sul forum, ma pure... vi si ha messo un pauso, scrivo... La mattina, se qualcuno andava venendo a vedere... Andiamo ad arti Comunque ci abbiamo messo 10 minuti Ah Facendo anche la formazione, che di solito bisogna stargli a scriverla Ma è solito 20, 25 minuti Eh, lo so Strascriverla, poi tu devi ricopiarla Così... Cambia tanto Proviamo allora a mettere... E' questa stessa ho vorto ...dola con una altra ...dola con una altra ...dola con una altra E' questa parte ma, per quanto è proprio il momento del link ... ciò èiso ... ... allora mi ricordi lo twitch quanto c'è come tempo trascorso? aspetta che ho messo cambiato pagina non so scherzo sul forum ok volevo dire no tempo trascorso allora 12 e 20 adesso non è cambiato nulla a 7 0,7 si 13 come prima così però toglie un po' il gusto che tattiche metto tattiche? ah si si nessuna se no perché fate con le tattiche impostate ah non è per niente peccato che è sicuramente troppo si 13 secondi poi con non so 10 secondi in realtà in fifa di fanno l'azione ah beh certo si 13 secondi passano segnato gol ah magari dopo il numero non lo so dimmete se vuoi continuare così se no potremmo tornare con la prima che comunque proviamo io sono adesso che fernando sta mi stando qua da centro campo si ciao perché rischia che ti faccio spoiler capito si vero si sente penso pure l'audio posso abbassare l'audio altrimenti tengo almeno alcune suone per dirti cambio almeno siamo più veloci cosa dici? ah mi fa morire aspetta ho avuto un aggiornamento ho fatto un balzo in avanti a che minuto sei? tempo trascorso so 14.07 adesso no no è un balzo fittizio è rimasto uguale faccio che riattivo l'audio quando eh dai io raccomando dove vorrei la colonna oo attenden aumento ok di ell che si su mi mi ti Grazie a tutti 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 Accidentalmente Grazie a tutti 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 Ok ho visto Ok Vabbè Ok 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 Bello solancio Qui si segna Grazie a tutti In Inghilterra L'ultima Non esiste Sua Ok Grazie a tutti All'alto destro Per fortuna Si Si Sì a tutti Si Sì mezzo celsi mezzo celsi cagliari zenith e di là invece l'università catolica Siviglia l'ultimo è Lazio l'interview quindi università catolica dai sta ora spianata verso la semifinale cominci a giocare bene sto cazzo di Siviglia vince le partite però deve pure giocare bene cattolica è la partita giusta che può far scattare la molla vabbè Bic mi sa che non c'è stai comunque quando ci sarai ti lascio qua la forma di questa merda che squadra che si è scelto però questa giovanata è ancora più merda di quella che ha scelto beh sì se guardi chi è alimentato è ben figa pure al primo turno che abbiano al primo turno cosa c'era la facile cattolica cioè facile non dirò sì penso domani anche perché sì domani 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 mattina tarda mattinata a primo ufficio insomma poi comunque alle 5 e mezza c'è stato il derby del Liverpool vabbè in ogni caso poi ci aggiorniamo su whatsapp comunque avevo visto quella cosa funziona sicuramente da perfezionare un attimo perché non voglio le cuffie e non le voglio sentire ce l'ho sul televisore quindi però abbiamo visto che funziona questa è la forma per Vic va già col coccolo vabbè dai a domani buona serata tra i ruffi e i ruffi tocca un attimo scandagliato in internet e vedremo qualche soluzione vabbè non ti dico cazzo non ti dico buona partita perché spero che esci con le lacrime dai buona serata qui è che esci a domani che esci a domani che esci a domani che esci Grazie a tutti.